Una bella fiera che genera sicuramente un confronto molto competitivo tra aziende locali e aziende che vengono anche da altri luoghi. E' bello vedere quante aziende salentine siano cresciute per gli esterni ed è bello che questa fiera così ben organizzata da Corrado Garrisi dia la possibilità alle nostre aziende di esporre i prodotti su cui hanno fatto ricerca, ricerca sui tessuti, ricerca sui materiali, rendendo possibile e accessibile tutto ciò che è esterno rispetto alle strutture ricettive, rispetto all'arredo urbano in una regione che ha 365 giorni all'anno belli. E quindi ha la possibilità di esporre sempre all'esterno e di far vivere l'esterno ai cittadini e ai turisti. Noi sosteniamo l'ecocompatibilità dei materiali, cosa c'è di più ecosostenibile della pietra leccese? Che ovviamente senza generare ulteriore consumo di cave riesca però a ristrutturare i materiali esistenti facendoli fruire proprio come materiali che sono provenienti dalla stessa natura. Così come è molto bello puntare su tessuti che siano rispettosi dell'ambiente, utilizzino meno acqua possibile, utilizzino meno plastica possibile e su questi tessuti c'è una ricerca peraltro anche sostenuta dalla regione a molte imprese che ne hanno fatto richiesta proprio per essere più rispettosi dell'ambiente. Quest'anno raggiungiamo la decima edizione e già questa è una grande soddisfazione. Abbiamo superato l'arco temporale della grande crisi, la fiera poi si è ripresa e oggi conta 100 espositori che è un dato per una settoriale di questo tipo e per una posizione geografica come questa è un dato che ritengo entusiasmante. Le novità sono le aziende, ogni azienda ha presente il meglio dei propri prodotti e il meglio delle proprie idee perché il nostro slogan è le tue idee nascono da noi. Cosa significa? Che le persone vengono perché vedono proposte, vedono idee nuove, sono visivamente riscontrabili e questa è una cosa che sicuramente ci riempie di orgoglio. Noi abbiamo due importanti momenti, uno l'ordine degli architetti e uno l'ordine degli agronomi. Questi ordini hanno ritenuto il contenitore di esterna valido addirittura per il rilascio dei crediti formativi. Quindi quale cosa più orgogliosa per l'organizzazione di una fiera che comunque ha una valenza molto commerciale, di scambi commerciali? L'ordine degli architetti e l'ordine degli agronomi la ritengono invece un contenitore anche altamente tra virgolette culturale, tanto che organizzano, ma non sono ormai cinque anni che organizzano eventi, giornate formative con il rilascio dei crediti formativi. E quindi noi abbiamo ogni anno, abbiamo all'interno centinaia di professionisti che si iscrivono, vengono a fare corsi di formazione all'interno della fiera e che visitano la fiera. La Puglia è la regione, dal mio punto di vista, che oggi incarna in assoluto nel modo migliore il concetto dell'outdoor. Cioè è l'outdoor che si sposa con il turismo e questo è proprio il messaggio principale. Noi non abbiamo più le strutture ricettive che sono chiuse tra quattro mura, sono strutture ricettive che propongono un vivere la Puglia nella sua estensione. Ogni azienda propone un concetto di vivere, non di arredare, ma di vivere l'esterno. E questa è la vera novità di questa fiera, per cui venite e lasciatevi trasportare da quello che vedete dentro. Grazie. 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 Grazie.